E mentre tutta Ascoli è tappezzata di manifesti a sostegno di Antonio Canzian come candidato sindaco del centro-sinistra, dai vertici regionali e provinciali dell'Italia dei Valori arriva uno stop. Il partito di Antonio Di Pietro infatti conferma l'alleanza strategica ad Ascoli con il Partito Democratico, ma vuol comunque avere un suo potere decisionale nella designazione del candidato sindaco. L'ipotesi Canzian quindi sarebbe da rivedere, almeno stando alle parole del coordinatore provinciale dell'IDV, Dante Merlonghi, che ha proposto di indire le primarie di coalizione nelle quali presentare un proprio candidato. Una mossa, quella di Merlonghi, dalla quale si evince la necessità di creare uno schieramento di centro-sinistra unito, in cui il programma sia il risultato di un confronto aperto fra tutte le forze che compongono la coalizione. E mentre Canzian prova a farsi piacere all'Italia dei Valori, in casa del centro-destra il candidato Castelli deve vedersela con l'onorevole Amedeo Ciccanti, che ieri a mezzo stampa ha lanciato il guanto di sfida al consigliere Alleanzino candidandosi alle prossime comunali. Attenzione però, Ciccanti non si presenterà come aspirante sindaco, ma come candidato in una lista dell'Udc, partito molto forte su Ascoli che potrebbe quindi togliere voti al popolo della libertà. Assieme all'Udc inoltre in questa lista comparirebbe anche il partito dei sindaci, ovvero quel movimento autonomo capeggiato dai primi cittadini uscenti di Folignano, Maltignano e Rocca Fluvione. Certo è che, indipendentemente da chi verrà scelto come candidato sindaco, il vero leader di questa compagine sarebbe comunque Ciccanti, che in questi giorni è più battagliero che mai. Ieri, infatti, non ha esitato ad attaccare sia Castelli che l'ex sindaco Celani, definendoli politici che sanno solo parlarsi addosso, evitando così il giudizio più importante, vale a dire quello dei cittadini.